Ciao bambini, oggi vi voglio spiegare la lettera. Cos'è la lettera? La lettera è un testo realistico o fantastico, è scritta in prima persona e ha lo scopo di mettere in comunicazione un mittente, colui che scrive, e un destinatario, colui che riceve, distanti tra loro. Quali sono le caratteristiche della lettera? La lettera può essere formale e informale. La lettera è formale quando la scriviamo per inviarla a qualcuno con cui non siamo in confidenza, ad esempio il sindaco, il direttore, il notaio, l'avvocato, eccetera. Mentre la lettera è informale quando la scriviamo per inviarla ad un amico, ad un familiare o a qualcuno con cui si è in confidenza. è importante ricordare quali sono gli elementi che caratterizzano la lettera. Il mittente, cioè colui che scrive, il destinatario, cioè colui che riceve, il luogo in cui si scrive e la data. La lettera si divide in tre parti. Formula d'apertura, cioè iniziare la lettera informale con caro o cara. Il contenuto, cioè elaborare un contenuto fatto di racconti, esperienze, sentimenti, opinioni, eccetera. E infine la formula di chiusura, cioè concludere la lettera con i saluti e la firma del mittente. Questo è un esempio di lettera informale. Quando scriviamo una lettera bisogna sempre ricordarsi di mettere il luogo in cui si scrive e la data. Nella lettera informale elaborare un contenuto vuol dire raccontare, raccontare un'esperienza, a raccontare un sentimento, un'opinione, usando un linguaggio confidenziale. Il contenuto della lettera deve rispettare le stesse regole del racconto, quindi ci sarà un inizio, uno svolgimento e una conclusione. Concludere la lettera con i saluti e la firma del mittente è importante. Se la lettera è formale, ricordatevi di usare un linguaggio serio e di rivolgervi al destinataio dando del lei. Nella lettera formale il contenuto esporrà situazioni problematiche, informazioni importanti e o richieste. Infine, bambini, ricordatevi che potete aggiungere ancora qualcosa alla lettera, tipo informazioni o pensieri venuti in mente all'ultimo momento, usando la sigla PS, dal latino Post Scriptum, che vuol dire scritto dopo. È arrivato il momento di lasciarci. Alla prossima lezione. Ciao! 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 Ciao!